ciao amici di channel this ciao a tutti voi che ci seguite io sono pasqui come avete saputo io e lo zio bob abbiamo deciso di aprire un nuovo canale youtube insieme la tecnologia non deve diventare un problema bensì deve essere la soluzione ecco perché nasce revo tech la rivoluzione tecnologica a portata di tutti troverete le recensioni dei prodotti da voi scelti dei prodotti che ci manderanno i nostri fans le live le anteprime gli unboxing e tutti i regali attraverso i contest che organizzeremo per voi a partire da domenica sera se sarete iscritti al canale nuovo revo tech che metteremo anche qui in descrizione e avrete commentato la recensione del nuovissimo oneplus 7t recensione realizzata in collaborazione con lo zio bob potrete vincere un amazfit gtr e un cubot x20 pro questi contest saranno realizzati e organizzati regolarmente da parte nostra per voi per farci crescere insieme perché voi fate la differenza e la nostra community come dico sempre è differente noi vogliamo dare una boccata d'aria fresca una boccata d'aria nuova a questo mondo tecnologico e far sì che siate voi i veri protagonisti al raggiungimento di un determinato numero di likes sotto ai nostri video scatteranno ulteriori contest e quindi arriveranno altre estrazioni per nuovi premi molto molto interessanti iscrivetevi quindi al nostro nuovo canale youtube continuate comunque a seguirmi qui su china deals canale che non sarà chiuso ma supportateci mi raccomando anche sul nostro nuovo canale perché se le cose andranno come devono ne vedrete delle belle ciao amici da pasqui e dallo zio bob a presto